La sua missione è iniziata a Trieste il 25 aprile 2019 e si concluderà a Udine il 20 giugno 2021, con 9.000 chilometri già percorsi e 600 ancora da intraprendere. L'incredibile viaggio a piedi di Elio Brusamento ha fatto oggi tappa a Pesaro, accolto dal presidente del Consiglio Comunale Marco Perugini. Attraverso due anni di camminata non stop, il portavoce nazionale dell'Associazione Sclerosi tuberosa ha acceso i riflettori su questa malattia genetica, ancora poco conosciuta. Per adesso innanzitutto non c'è ancora una terapia per debellare questa malattia. Diciamo può colpire in maniera leggera, può colpire in maniera veramente pesante e questo diciamo che crea veramente tanti problemi con le famiglie. Questi ragazzi sono di ragazzi che non riescono a parlare, a volte non riescono anche a camminare e questo comporta veramente per le famiglie una vita difficile. Ho incominciato il mio viaggio diciamo perché doveva essere un viaggio di conoscenza del territorio italiano perché dovevo fare un libro sul territorio italiano. Dopo ho incontrato questo signore nel Lazio che è un figlio di questa malattia e allora da là è partito tutto questo mio interessamento per questa malattia e allora questo mi ha portato a cercare di portare avanti il più possibile questa malattia e farla conoscere il più possibile.